La violenza maschile sulle donne è il risultato di un retaggio culturale preciso nei rapporti fra i generi. Erroneamente si ritiene che gli autori della violenza contro le donne siano affetti da dipendenze di vario tipo, appartengano a categorie sociali disagiate, siano extracomunitari o malati di mente. Le ricerche condotte su questo tema in realtà chiariscono che si tratta di un fenomeno sociale trasversale sia per le vittime sia per gli autori di violenza. E quanto è emerso nella giornata di confronto dal titolo Autori di violenze contro le donne, quali stereotipi e quali realtà, organizzata dalla città metropolitana di Torino nell'ambito delle iniziative promosse in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. L'incontro è stato anche occasione per parlare di un nuovo protocollo del cosiddetto tavolo maltrattanti, una realtà che sin dal 2011 ha messo in rete istituzioni, realtà socioassistenziali, forze dell'ordine, associazioni, per dare impulso ad azioni e interventi di prevenzione rivolti agli uomini autori di violenze. Valentina Cera, in questa occasione si sta parlando del profilo dei maltrattanti e di che cosa può fare il tavolo maltrattanti per questa tipologia di autori di violenza. Sì, la violenza di genere è un fenomeno sociale, la città metropolitana è da molti anni impegnata con quella che ormai oggi si chiama rete RAC, rete azione e cambiamento, che vede come protagonisti, oltre alle istituzioni, quindi città metropolitana e città di Torino, anche le forze dell'ordine, il terzo settore che di questa piaga sociale si occupano e che tentano quotidianamente di recuperare autori di violenza sulle donne a una nuova socialità. Questa mattina si studiano gli stereotipi e le realtà di questo fenomeno e quindi dei maltrattanti e si capisce dagli studi portati avanti insieme all'Università degli Studi di Torino che bisogna proprio andare un po' oltre lo stereotipo. Il maltrattante non è un mostro da mettere in prima pagina, le soluzioni non sono quelle sensazionalistiche che a volte vengono proposte da certa politica, ma bisogna conoscere il fenomeno, studiarlo, approfondirlo e provare a capire quali sono le metodologie per riportare queste persone ad una socialità sana e non tossica. Professoressa Torioni, avete fatto un lavoro tracciando il profilo dei cosiddetti maltrattanti proprio sul territorio della città metropolitana. Che cosa risulta? I dati raccolti riguardano circa 200 soggetti che sono stati presi in carico dalle associazioni della rete RAC e ci consentono di costruire un profilo e soprattutto di sconfermare molti stereotipi sull'uomo che agisce violenza. Intanto il 75% degli uomini che si sono rivolti ai centri sono uomini che esercitano violenza sulle loro compagne, mogli, ex compagni, ex mogli. Quindi parliamo di una violenza domestica agita all'interno della coppia. Quindi già questo ci dà un dato interessante. L'altro dato è che oltre la metà di questi uomini ha figli. Quindi sono uomini che potenzialmente possono anche agire violenza assistita perché comunque all'interno di una famiglia quando una madre subisce violenza da parte del padre cambia il clima. E questo clima come un veleno si trasferisce anche nelle relazioni educative che i genitori hanno e soprattutto il padre ha con i figli. L'altro elemento molto interessante è la cittadinanza. Oltre il 75% degli uomini che si sono rivolti ai centri sono italiani. Hanno un'istruzione medio-bassa e soprattutto oltre il 90% non ha mai fatto uso di sostanze, né alcol né droga. Quindi anche questo ci consente di dire che l'uomo che agisce violenza è un uomo comune. Qualunque uomo può trovarsi in una relazione di quel tipo se non è stato socializzato a una maschilità virtuosa, una maschilità attenta all'ascolto e si è spogliato di quelle dimensioni stereotipiche che vogliono l'uomo controllante e in una posizione di potere egemonico nei confronti della sua compagna.